Nel territorio messinese il 15% dei contratti sono di tirocinio e il 40% a tempo determinato, quindi ad aver sottoscritto un contratto senza scadenza è solo il 45% di chi lavora in provincia di Messina. E' questo uno dei dati emersi nel corso del seminario organizzato da Felsa CISL Sicilia insieme alla CISL di Messina per approfondire le modifiche introdotte dal decreto dignità al Jobs Act e per riflettere sulle nuove esigenze di cittadini e famiglie che hanno cambiato la percezione del lavoro. Anche la legislazione dunque avverte l'esigenza di cambiare, ma la flessibilità in questo caso porta al suo utilizzo da parte dei datori per abbassare il costo del lavoro. Il decreto dignità ha introdotto la causale, o meglio l'ha modificata portandola a 12 mesi, che significa che in questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di assumere la persona per 12 mesi senza inserire una causale all'interno del contratto. Questa cosa ha certamente favorito l'occupazione nei primi 12 mesi del contratto. Per altri aspetti un po' l'ha penalizzata perché il datore di lavoro alla fine dei 12 mesi è costretto a prendere una decisione se a rinnovare il contratto e quindi portarlo a 24 mesi e poi successivamente a tempo indeterminato oppure interrompere il contratto. I tempi di assunzione della durata del tempo determinato a 12 e a 24 mesi consentono naturalmente la possibilità di poter limitare gli effetti del tempo determinato e dover creare la possibilità di poter assumere a tempo indeterminato successivamente. Spesso però naturalmente questo non avviene perché naturalmente ci sono tutta una serie di problematiche relativamente ai costi della manodopera alti che non consentono naturalmente la possibilità di poter affrontare per molte imprese le assunzioni a tempo indeterminato.